Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Si è tanto parlato di Mario Strikers negli ultimi giorni e le avventure di Mario sul campo da calcio mi hanno fatto tornare tanta nostalgia degli sportivi arcade con protagonista l'idraulico baffuto. Oggi andremo a ricordare tutte le serie di questo tipo. Sono molto curioso di sapere quanti di voi conoscono questi giochi, perché, credetemi, esistono degli esperimenti veramente bizzarri. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! Ancora prima che il suo nome fosse riportato in copertina, le prime apparizioni di Mario in dei titoli sportivi si possono ritrovare già ai tempi del NES. Infatti, il protagonista di Golf, sebbene non presenti l'abbigliamento tipico dell'idraulico, è comunemente identificato come Mario. Il debutto ufficiale avverrà solo nel 1987 con NES Open Tournament Golf, dove la mascotte, suo fratello Luigi, sono i due protagonisti del gioco. In Giappone il titolo è conosciuto come Mario Open Golf, una versione ben più difficile della sua controparte occidentale. Questo primo episodio ha dato vita ad uno degli spin-off sportivi più gettonati in assoluto, che però purtroppo risulta assente dal 2014, anno in cui uscì World Tour per Nintendo 3DS. Sia le versioni per Nintendo 64 che per Gamecube presentavano la possibilità di interagire con le controparti portatili uscite su Game by Color e Advance. Altra popolarissima serie è quella dedicata al tennis, anche in questo caso il debutto ufficiale avvenne dopo alcune apparizioni in incognito e avvenne con Mario's Tennis, uscito nel 1995 su Virtual Boy. Di certo non il migliore degli inizi, considerata l'assurdità della stessa console per cui fu concepito, ma nonostante questo la serie si è dimostrata tra le più longeve, ripresentandosi puntualmente su quasi tutte le console Nintendo. Se c'è un motivo per cui va ricordato assolutamente questo spin-off è che il suo capitolo per Nintendo 64 ha segnato il debutto di Waluigi, uno dei personaggi più amati dai fan Nintendo, anche se l'azienda di Kyoto sembra dimenticarsene spesso. Ormai lo sapete, il Gamecube è la mia console preferita di tutti i tempi. Su Cubetto nacquero ben due spin-off sportivi di Mario, l'uno il già citato Mario Strikers, l'altro il decisamente più oscuro titolo dedicato al baseball. Su Mario Strikers c'è veramente poco da dire, anche perché ho scoperto essere una serie con tantissimi estimatori. Per me è un po' la quintessenza dello sportivo arcade, che prende le regole di base per trasformare le partite in qualcosa di totalmente diverso. È inoltre una serie insolitamente difficile per gli standard a cui ci hanno abituato gli spin-off di Mario, ma soprattutto presentava un'estetica parecchio lontana dai toni spenserati e fanciulleschi tipici dell'iconografia dell'idraulico italiano. Il gioco, già a partire dalla copertina, era bello aggressivo e il gameplay rifletteva appieno questo cambiamento di prospettiva. Discorso diverso per Mario Superstar Baseball, un gioco praticamente sconosciuto qui da noi in Italia, visto che il baseball se lo filano veramente in pochi. E questo è un vero peccato, visto che la serie dimostrava un grandissimo potenziale su Gamecube e su Wii confermava le prime ottime impressioni. Mario Super Sluggers, infatti, giovava profondamente dal nuovo sistema di controllo della Wii. Peccato che il titolo non uscì mai in Europa e fu anche l'ultimo episodio della serie, che risulta ferma dal 2008. La Wii vide la nascita anche di una serie ancora oggi seguitissima, un crossover epocale, che purtroppo non è mai riuscita a tenere fede alle altissime aspettative del pubblico. Sto parlando ovviamente della serie di Mario e Sonic alle Olimpiadi, una raccolta di minigiochi dove due universi Nintendo e Sega si uniscono per celebrare il più importante evento sportivo del mondo. Tolta la delusione dettata dal fatto che molti fan di vecchia data avrebbero preferito vedere i due rivali incontrarsi in un platform piuttosto che in un party game, nonostante non ci sia mai stato un titolo veramente brutto della serie, allo stesso tempo nessuno degli episodi è stato memorabile quanto ci si poteva aspettare da una collaborazione del genere. La serie di Mario e Sonic esce a cadenza praticamente regolare, avendo saltato soltanto i giochi invernali del 2018, ed è approdata su Switch nel 2019 con l'episodio dedicato alle Olimpiadi del 2020 che si sarebbero dovute tenere a Tokyo. Si tratta non di certo di una serie imperdibile, ma il multiplayer può regalare le sue ore di divertimento. Tolte le serie più conosciute in realtà ci sono anche tantissimi spin off isolati, apparsi quasi per caso e che di sicuro godono di molta meno popolarità. Abbiamo per esempio i due titoli sports, ovvero Mario Sports Mix e Mario Sports Superstars, usciti rispettivamente su Wii e 3DS. Si tratta di due raccolte che uniscono vari sport al loro interno, ma non si tratta di semplici minigiochi, piuttosto di titoli sportivi a tutti gli effetti. Sports Superstars è una raccolta molto più classica che come quinta disciplina aggiunge l'equitazione, mentre Sports Mix proponeva degli esperimenti più atipici, tra cui anche il dodgeball. Inoltre, essendo sviluppato da Square Enix, presentava alcuni interessanti cameo dei personaggi di Dragon Quest e Final Fantasy. Da ricordare, sempre nato dalla collaborazione con Square Enix, Mario Slam Basketball, uscito nel 2006 su Nintendo DS. Il gioco fu accolto positivamente da critica e pubblico, peccato che l'estrema facilità e la mancanza della possibilità di giocare online gli impedirono di essere ricordato come uno dei migliori sportivi sulla portatile Nintendo. E per finire, come non ricordare quella volta in cui Nintendo decise che Mario sarebbe diventato protagonista di un Dance Dance Revolution? Uscito su GameCube con tanto di periferica a tappetino, il titolo sviluppato da Konami è esattamente quello che vi aspettate, un rhythm game dove far ballare Mario e compagni. Credo che le immagini del gioco parlino da sole, non che il gioco sia brutto in assoluto, ma da un'idea del genere non ne poteva certo uscire una pietra miliare. E questi poracci erano bene o male tutti i titoli sportivi che hanno visto Mario come protagonista. Una menzione d'onore andrebbe fatta anche ai mini giochi di Mario Party, che nella loro semplicità potevano potenzialmente catturare il giocatore per ore e ore. Io personalmente adoravo il beach volley presente come ultimo minigioco di Mario Party 4, per me indimenticabile. Quindi ora è il vostro turno, quali sono gli sportivi di Mario che preferite? Come al solito vi aspetto nei commenti, io vi ringrazio per essere arrivati fino qua in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il poro Mario, Michele Sports, ciao! Ciao!